Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Torna di nuovo alta la tensione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, questa volta in marito alla vicenda della Tav. Mentre il Ministro dell'Economia, Tria, credo che si stia andando verso una direzione positiva, frena invece il Premier Conte che dice di non aver aperto a nessuna ipotesi di Tav, né aver richiesto un ulteriore contributo ad analisi costi benefici dell'opera. Tuona il Ministro delle Infrastrutture Toninelli il no alla Tav senza alcun pregiudizio l'ho detto visitando il cantiere per la ricostruzione del ponte di Annonevianza. Il Tav può anche servire e sono felice se dopo il 2070 avverrà, ma ora che sono Ministro mi sento responsabile. Se domani crolla un altro ponte e muore qualcuno, anche se giuridicamente non lo sono, perché avrei dovuto impiegare le risorse del Tav per fare manutenzione a quella infrastruttura. Torna attesa e grande per il Carnevale di Manfredonia con la prima gran parata delle meraviglie e dei gruppi mascherati che avrà luogo il prossimo 3 marzo. Il Carnevale è da Garganica, un'autentica fabbrica della creatività e del divertimento, giunta alla sua 66esima edizione, nonostante alcune difficoltà amministrative ed economiche. L'atteso esordio dunque non poteva avvenire se non mostrando quello che è il fiore all'occhiello, ovvero le meraviglie proposte dagli istituti comprensivi. Un evento unico al mondo che con il patrocino dell'Unicef avvende la partecipazione di migliaia di bambini. Passiamoci adesso a Foggia, dove la Sala Rossa del Vento è stata aggriminta lo scorso 27 febbraio, sede della Guadaluzione dei Monti Uniti di Foggia, per la presentazione di un'altra storia per Foggia, l'eredità del 21 marzo. La pubblicazione è un racconto per immagini del lungo percorso di preparazione della manifestazione che portò a Foggia oltre 40.000 persone provenienti da tutta Italia nel capolocodano per dire no alle guerre di mafia. Sentiamo come ha commentato questo importante evento il Presidente del Centro Servizi per il volontariato di Foggia, Pasquale Marchese. Io sostengo che con il passare degli anni, con gli impegni, con gli impegni di tutto il mondo del volontariato, le varie associazioni dei volontari con il loro operato, si può fare qualcosa, sicuramente stiamo facendo qualcosa, bisognerà fare ancora molto, il molto va fatto già dalle piccole cose, bisogna impegnarsi nel sociale, impegnarsi verso l'altro, impegnarsi soprattutto al rispetto delle regole, a rispettare l'individuo, a rispettare la collettività e noi come le varie associazioni e con il Centro Servizi che dà servizi alle varie associazioni dobbiamo essere un presidio, un presidio permanente per la legalità e di esempio per la collettività. Vi ricordo che poi domani mattina nel corso della nostra prima edizione del telegiornale vi faremo sentire anche l'intervista che abbiamo realizzato al dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Economico a Lighieri di Cirignola, il professore Salvatore Mininno. E adesso andiamo alle altre notizie di questa sera. Dall'estero è fallito il summit tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I due hanno lasciato l'hotel, disertando almeno il dittatore nordcoreano la prevista conferenza stampa. Il presidente Trump, che invece ha incontrato i giornalisti, dice che Kim ha ripiutato la richiesta di togliere le sanzioni, ha detto che le differenze sono state ridotte ma ha una visione della Corea del Nord, che non coincide con la nostra. I nordcoreani avevano chiesto nel summit un allentamento parziale delle sanzioni in cambio dello smantellamento della struttura principale di Jung e Bjorn. Dunque il summit è fallito ma, ovviamente dice la portavoce statunitense Sanders, i colloqui continueranno nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Il sindaco di Volturino, Santa Croce, in un post lanciato su un noto social, si dichiara stanco di essere preso in giro per quanto riguarda la vicenda della Galleria Passo del Lupo, situata sulla Statale 17, che dovrebbe rimanere richiusa al prossimo 31 marzo. Chiede l'intervento urgente del prevento perché questa situazione non può andare avanti. Francamente, dice il primo cittadino, mi sono stancato di essere preso in giro. E aggiunge, sul lato di Volturino, vi erano due operai che smontavano le cabine elettriche. Sul lato nostro, nulla. Stanno pidendo di massacrare la nostra economia e invito nuovamente tutti i sitaci e la popolazione a protestare civilmente. Spostiamoci adesso a Margherita di Savoia, perché si parla di dieta mediterranea, all'Istituto Alberghiero, che ha organizzato insieme al Club Unesco di Voggia un interessante convegno su questo tema. Dalla città salinare, Savoia Serenga. Presentati a verso 2019 le proposte per promuovere nei prossimi mesi le migliori specialità vitivinicole, olivicole e gastronomiche della Puglia, rivolte ai turisti del gusto delle aziende socie di Movimento Turismo del Vino Puglia, Buonaterra Movimento Turismo dell'Olio Puglia e la Puglia è servita. Vino, extravergine, ristorazione, servizi, ospitalità. Il forum ha riunito a Bari per la prima volta tutti i soci dei tre consorsi, quasi 150 aziende tra cantine, frantoi, artigiani del gusto, strutture della ristorazione e dell'ospitalità per insaldare ulteriormente il rapporto di reciproca collaborazione avviato da circa tre anni. Ricco il calendario 2019 tra conferme e novità. Tra gli altri appuntamenti a maggio, cantine aperte e ad agosto, calici di stelle, il galà dei vini del Movimento Turismo del Vino Puglia, la terza edizione di Abcolio, la manifestazione dedicata all'extravergine pugliese a cura di Buonaterra e Olivo Day, giornata dei frantoiani di Puglia nei primi due weekend di maggio e sempre a maggio la prima edizione di Passaggi, una grande festa del gusto con preparazioni a cura dei cuochi della Puglia e servita e la terza edizione di Cucine Aperte in programma il 28 settembre. E di me in chiusura alla pagina sportiva il calcio dopo le emozioni delle semplicità di andata della Coppa Italia torna il campionato di calcio con la settima giornata del girone di ritorno che propone per questa sera un interessante anticipo alle 20.30. alla Sardegna Arena sarà di fronte Cagliari ed Inter i Sardi che devono cercare riscatto e conquistare punti salvezza. Non sarà facile contro i Nenazzuri che dopo la beffa di Firenze e le polemiche seguite al caso Icardi, non ultimo lo stesso giocatore ha chiesto alla società Nenazzuria di avere più rispetto nei suoi confronti, cerca dunque una vittoria per continuare a credere nella zona Europa. Domani poi l'attesa sarà tutta per il dervito olimpico tra Lazio e Roma, mentre prima alle 15 sfida salvezza Empoli e Parma ed alle 18 Milan Sassuolo. E' tutto per questa sera per il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 domani mattina alle 9, buon proseguimento di serata, a domani. Grazie a tutti.